Ciao, sono Luca e in questo video vediamo una scheda Total Body con un bilanciere senza la panca per aumentare la massa muscolare anche a casa in poco spazio per il tuo obiettivo di ipertrofia muscolare. Come sempre, volendo a parte, puoi evitare un ciclo di forza muscolare che in molti casi potrebbe risultare non particolarmente piacevole e sostenibile. Semplicemente migliorerai la forza indirettamente aumentando i carichi nel corso del tempo, sempre con l'ascolto di te in termini di connessionamento muscolo e consapevolezza muscolare al primo posto. Vedremo 7 esercizi che puoi tranquillamente eseguire anche a casa in poco spazio, sempre stando attento a personalizzarti il tutto per i migliori risultati, per l'appunto in questo caso senza la panca ma soltanto con il bilanciere. Per quanto riguarda serie e ripetizioni, posto che il tutto deve sempre essere personalizzato in base a tante variabili, puoi iniziare con un 3x12, quindi 3 serie da 12 ripetizioni in tutti gli esercizi, con delle pause brevi, attive e consapevoli non oltre i 45 secondi, pause nelle quali allunghi e contrai i muscoli così da sentire come stanno lavorando, in questo modo ancora una volta migliorando l'ascolto di te e anche il tempo sotto tensione. Iniziamo con il petto eseguendo le spinte con bilanciere a terra, in questo caso i gomiti non possono scendere più di tanto rispetto alla classica panca piana, quindi l'arco di movimento è leggermente ristretto, però il tutto può comunque risultare efficace. Le gambe sono flesse, la schiena ovviamente mantiene le proprie curve fisiologiche, con le scapole che pur muovendosi tenderanno sempre verso una posizione di adduzione e depressione. Il bilanciere è sempre allineato con la parte bassa del petto per l'intera esecuzione, con i gomiti che non vanno mai oltre i 45 gradi rispetto al corpo. Le mani sul bilanciere sono poste ad una distanza maggiore rispetto alla larghezza delle spalle. Passiamo quindi alla schiena, in questo caso puoi eseguire il rematore con bilanciere, se in piedi con le gambe leggermente piegate, la schiena che ovviamente mantiene le proprie curve fisiologiche, con il core in termini di zona centrale del corpo contratto per stabilizzare al meglio, ancora una volta con le scapole che tendono verso una posizione di adduzione e depressione. Mantieni i gomiti vicino al corpo, presa in supinazione, mani, polsi, avombracci in linea e ancora una volta enfatizza entrambe le fasi del movimento. Per quanto riguarda le spalle puoi eseguire un overhead press se in piedi con le gambe leggermente piegate, il core contratto, la schiena che mantiene le curve e le scapole ancora una volta che tendono verso una posizione di adduzione e depressione. Le mani sul bilanciere sono poste ad una distanza pari alla larghezza delle spalle, quindi ancora una volta enfatizza entrambe le fasi, eseguendo il tutto in maniera ampia, lenta e controllata. Passiamo quindi ai tricipiti, in questo caso puoi eseguire il french press con bilanciere a terra, sempre con le gambe flesse, schiena che mantiene le curve e i gomiti mantenuti vicino al corpo, mani troppo larghi. Le mani sul bilanciere sono poste ancora una volta ad una distanza pari alla larghezza delle spalle e enfatizza entrambe le fasi del movimento, sentendo al meglio la contrazione e il pompaggio dei tricipiti stessi. Per quanto riguarda i bicipiti puoi eseguire il classico carle con bilanciere, in piedi con le gambe leggermente piegate, schiena che mantiene le curve, core contratto, gomiti mantenuti vicino al corpo, evitando quindi il cheating, ossia il fatto di coinvolgere in maniera non corretta altri gruppi muscolari, con mani, possi e avambracci in linea e le mani sul bilanciere ad una distanza pari alla larghezza delle spalle e enfatizza entrambe le fasi del movimento, sentendo al meglio la contrazione e il pompaggio dei bicipiti stessi. Per gli addominali puoi eseguire un notice up, in questo caso con il bilanciere mantenuto con le braccia completamente estese, mani sul bilanciere ad una distanza pari alla larghezza delle spalle, sentendo al meglio la contrazione, in questo caso in particolar modo del retto dell'addome. E infine per le gambe puoi eseguire uno squat con bilanciere, mi raccomando eseguilo soltanto se hai un rack sul quale appoggiare il bilanciere stesso. Nella prima fase definita di hip hinge sposti il bacino all'indietro, con il peso quindi principalmente sui talloni, dopodiché scendi in accosciata con le ginocchia che non vanno oltre il piano immaginario che parte dalla punta dei piedi. La schiena mantiene le curve, il core è contratto, le punte dei piedi sono rivolte leggermente verso l'esterno e a loro volta allineate con le ginocchia stesse. Nella fase di discesa puoi fermarti con le cosce parallele al suolo, sempre massimizzando entrambe le fasi del movimento. Questa quindi è la scheda, mi raccomando assicurati di personalizzartela per i migliori risultati, così da poterti allenare efficacemente anche a casa in poco spazio. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!